Sono tre corsi per formare figure professionali strategiche all'interno di questo sistema. Una più volta verso il turismo, quindi l'accoglienza turistica, sia dei turisti che arrivano dal mare, sia che arriva da altri flussi e poi vuole dirigere sul mare e usufruire delle bellezze del nostro territorio. Una figura invece all'interno del porto turistico, come supporto al direttore del porto, per facilitare e migliorare l'accoglienza di chi arriva dal mare. Un'altra ancora più declinata verso la canteristica è verso il refitting nautico. Tre diversi corsi, tre diverse tipologie professionali che sono accomunate però da un unico obiettivo, un unico filo conduttore. Esattamente, il filo conduttore è il marketing territoriale. Fare sistema per le aziende del nostro territorio è l'unica forse, l'unico modo per dare forza al nostro territorio, dare occupazione. A chi sono rivolti questi corsi? Come fare per iscriversi? Entro quando? I corsi sono rivolti a giovani disoccupati, inoccupati o con contratti di lavoro flessibili, dai 17 ai 34 anni. È possibile iscriversi presso il villaggio al ragazzo, in segreteria. Tutte le informazioni possono essere prese sul sito villaggio.org. Ci sono buone prospettive occupazionali in un settore fortemente in crisi in questi anni ma che sta cercando di rialzarsi? Esattamente, siamo sostenuti in questi percorsi da diverse aziende del territorio che rappresentano delle eccellenze. Ci supportano in tutte le fasi, sia di formazione, i corsi sono caratterizzati da molti interventi del mondo del lavoro, quindi interventi di persone che vivono direttamente in questo settore. Questa è una cosa molto importante. Alla fine del corso sarà possibile fare una work experience di tre mesi e per uno dei tre corsi anche effettuare percorsi di autoimprenditoria.